Andremo nel capitolo 37 del libro del profeta Ezechiele, questa sera leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 14. Amen? Fa piacere o no? A me piace questo capitolo, molto incoraggianto. Allora, capitolo 37 dal versetto 1. E gli disse, figlio Alduomo, queste ossa potrebbero essere rivivere? E io risposi, oh Signore, oh Eterno, tu lo sai. Ed egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secca, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa, ecco io faccio entrare in voi lo Spirito e voi rivivrete. E metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo Spirito e rivivrete. E conoscerete che io sono l'Eterno. E io profetizzai come mi era stato comandato, come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne e la pelle, ricoprire, ma non c'era in esse Spirito alcuna. Allora egli mi disse, profetizza allo Spirito, profetizza figlio Alduomo e di allo Spirito, così parla il Signore l'Eterno. Vieni dai quattro venti, oh Spirito, soffia su di questi uccisi, fa che rivivano. E io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e tornarono alla vita, si alzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. Ed egli mi disse figlio Alduomo, queste ossa sono tutte la casa di Israele. Ecco essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è perita, noi siamo perduti, perciò profetizza e di loro, così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò fuori dalle vostre tombe, oh popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. E voi conoscerete che io sono l'Eterno, quando aprirò i vostri sepolcri e vi trarrò dalle vostre tombe, oh popolo mio, e metterò in voi il mio Spirito, e voi tornerete alla vita, vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io l'Eterno ho parlato e ho messo la cosa ad effetto, dice l'Eterno. Ti è piaciuto? Allora, questa sera, con l'aiuto del Signore, vi porteremo nella seconda valle più famosa della Bibbia, la valle delle ossa secche. La prima qual è? Qual è la prima? Che nome c'ha? C'ha un nome e un cognome. La seconda valle più famosa nella Bibbia è questa qua. Quanti di voi conoscono già questo verso? Alzate la mannina. Eh? Una buonissima parte di voi. Ma quanti conoscono la valle citata nel Salmo 23? La valle dell'ombra? Quanti la conoscono? Tutti. È avvinda ancora la valle dell'ombra e dell'amore. Ci fa insomma, tra tanti bei posti della Bibbia, tu stasera, proprio in queste valli, già viviamo in una valle, questa è la terza più conosciuta. Vabbè, se la gioco con questa per il secondo posto. In una valle di lacrime. Quindi valle dell'ombra e della morte. Valle delle ossa secche. E forse in mezzo a noi c'è qualcuno che vive in una valle di lacrime. Ma se non ci potevi portare in qualche posto una bella villeggiatura, un posto turistico, un po' di sole, una cosa, una cosa scicca. Ma per carità, ci mancherebbe altro. Lo Spirito Santo ci condurrà sicuramente nel corso della nostra vita con Lui, con il nostro Signore Gesù. Attraverso paesi dove scorre il latte e il miele. Dove ci sono benedizioni a destra e a sinistra. Non ti è mai capitato di attraversare momenti di grande benedizione da parte di Dio? Quanti hanno provato questo? Alzate la mano. Se no non ci crede. Non ti devo convincere perché si è benedetto a te. Dai. Diciamo le bugie. Le bugie durante il culto non si dicono, si chiedono dopo. Però io mentre queste sere con i fratelli pastori pregavamo, sentivamo una voce ogni tanto. Signore risvegliaci. È vero o no? È vero o no? Sì o no? No amèn. Sì o no? Eh. E l'amèn vuol dire un sacco di cose. Sì o no? Sì. Il signore ascolta il grido del suo popolo. Il signore ti ha ascoltato e ti vuole risvegliare. Mi vuole risvegliare. Però questo risveglio sai dove lo vuole fare? Non sopra il monte della trasfigurazione. Non lo vuole fare in un'oasi. Non lo vuole fare in un posto di villeggiatura. Sapete dove lo vuole fare? A San Cipriano d'Averso. Vuole fare qua. E prima di iniziare a capire cosa precede il risveglio che ci sono delle cose che precede il risveglio. Qua c'è Zecchiele. Zecchiele era contemporaneo di Daniele. Daniele gli era toccato una parte abbastanza buona. Lui faceva l'amministratore presso l'impero babilonese e addirittura a un certo punto della sua carriera amministrativa arrivò ad essere il terzo nel regno di Babilonia. Fu addirittura un uomo di transazione fra l'impero babilonese e l'impero persiano. Aveva una capoccia Daniele così. Forte. Invece Zecchiele no. Zecchiele era un sacerdote. Faceva parte di quei giudei che furono deportati da Gerusalemme. non ebbe un ministerio glorioso e potente come Daniele. Ok? Però in quello che il Signore lo chiamò a fare egli fu fedele. E noi questa sera vogliamo fare la stessa cosa. Non dobbiamo essere grandi per vedere la gloria di Dio. Dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose per vedere la gloria di Dio. E così questo risveglio ha delle fasi prima arrivano gli ossi poi i nervi muscoli la pelle l'avete letto? No, ci sono delle fasi però ancora non si verificò il risveglio ci sono però delle fasi che iniziarono a muoversi e come non si fanno a capire queste fasi? Come non si può come si può non accorgersi che in questa sera il Signore sta per mandare un risveglio glorioso in questa valle di ossa secche? Ma vi rendete conto che è tutto pronto stasera? Ci manca l'ultimo dicono in Canada l'ultimo step l'ultimo passo per te per la tua famiglia per la tua casa come fai a non accorgerti? Come fai a rimanere indifferente dopo queste sere dove Dio ha manifestato la sua gloria nella tua vita? E ci sono questi passi ma attenzione l'ultimo è quello fondamentale il più importante come si fa a verificare questo passo? Prenderemo spunto da tre atti tre azioni sacerdotali degne di un evangelista che Ezechiele fece ebbe queste tre condizioni condizioni che devono essere parte integrante del nostro culto a Dio questa sera se sei distratto non avverrà nulla io posso non è nelle mie capacità ma posso predicare nella maniera migliore possibile non avverrà niente è una tua responsabilità stasera il culto non lo faccio io soltanto lo fai anche tu tu puoi essere aggravata da mille pensieri se questi pensieri non vengono scacciati nel nome di Gesù vedete come spingo molto su questo tema il culto lo facciamo insieme devi iniziare a lotare il nome del Signore devi dare gloria a Gesù questa sera non deve essere sempre un continuo incoraggiamento da questa parte a un certo punto devo interrompermi perché il Signore sta battezzando la tua vita lì sul posto senza bisogno di incoraggiamento o di appello quando sarebbe bella una cosa del genere a un certo punto mi devo stare zitto gloria a Dio gloria a Dio perché il Signore inizierà a scendere con potenza su queste ossa secche sulle mie ossa secche ingiallite dall'arsura di questo sole ormai bianche e Dio può farlo stasera io sento questo nel mio cuore non so se è da parte di Dio o no ma questo culto non finirà come è iniziato e tu non uscirai come sei entrata il Signore ti toccherà in maniera particolare questa sera come questa valle di ossa secche che alla fine c'erano non più ossa ma un esercito grande grandissimo io sono certo che il Signore è vero siamo venuti un po' a Maccatelli è vero poco con qualche bozzo qua e là sul nostro cuore sull'anima nostra tu non uscirai come sei entrata vogliamo vedere? ascolta vuoi vedere? vogliamo i risvegli è vero o no? e allora dobbiamo un attimino interessarci alle ossa secche la prima cosa che notiamo la prima condizione in questo sacerdote in questo profeta in questo uomo che per noi sarà un esempio per vedere questo culto trasformarsi da un cimitero a una parata di santità dobbiamo considerare l'interesse di Ezechiele infatti il profeta Ezechiele era totalmente assorto dal problema della valle è interessato pastore ma come fai a dire che è interessato? molto semplicemente perché egli si dedica completamente alla risoluzione di questo difficile problema e Ezechiele infatti quando il signore gli dice Ezechiele ma possono queste ossa rivivere? E Ezechiele non dice vabbè signore ma mo c'è sta tempo per parlare di altro vabbè signore ma proprio mo c'ho le cose mie da fare egli risponde prontamente ed è una domanda che il signore fa anche a te questa sera ed è strano che lui lo chieda a me e a te perché a ragione Ezechiele disse beh signore tu lo sai signore che fai trovando da me signore ma stasera c'ho un sacco di problemi miei cosa mi interessa stasera se tu questo culto lo trasformi da un cimitero e lo porti a un apparato un esercito glorioso per la tua gloria signore tu lo sai la condizione la quale sto ed Ezechiele non è che stava passando un bel periodo fratelli e sorelle perché lui veniva da una deportazione l'avevano trasportato in un altro luogo e stava passando i guai suoi appresso ai suoi connazionali che non lo ascoltavano e ma il signore vuole sapere da lui se quelle ossa secche potevano rivivere ma io vedo in lui un interesse verso quella valle ti voglio fare subito una domanda ma tu sei interessato a questo culto ti fa piacere sì o no se il signore è battezza nello spirito santo ci tieni se la persona vi potete guardare l'uno con l'altro guarda quella che sta a fianco a te guarda quello che sta a fianco a te ci tieni tu a quella persona no no certo che ci tieni certo che sei interessata probabilmente colui che è a fianco a te è tuo marito o è tuo figlio e magari colui che sta a fianco a te può essere tua moglie o tua sorella o tua cugino o una tua amica o la fidanzata talmente era talmente era interessata a questa valle di ossa secca scusate mi dilungo un attimo su questo punto la parola di Dio dice non me lo sto inventando va bene quello che parliamo questa sera è supportato dalla parola del Signore io vi leggo il versetto voi fate la vostra deduzione se il Signore mi ha detto una cosa giusta data gloria a Dio se no voi state in silenzio va bene io leggo il versetto se sei la meno vuol dire che ci ho seccato e mi fece passare presso di esse tutte attorno tutte attorno e capite che significa questa parola tutte attorno questa valle aveva un perimetro eh non è che Zecchiello ha detto vabbè Signore ho capito ma che devo fare ne vedi una le vedi tutte giusto o no giusto o no giusto o no giusto o no no perché ogni ossa secca era una storia ogni ossa parlava di un'uccisione ed Ezechiele era interessato a quelle ossa va bene e per sé tempo dedicò parte del suo tempo e questo sapete come si chiama fratelli e sorelle si chiama interesse nella nostra società quando qualcuno ci vede impegnati in una causa perduta come ci dice non fare l'avvocato data la mano bravissimi è vero o no sti evangelisti è una causa persa ma per perdere tempo quella l'ora e mezza là sotto vero o no ma tu sei interessato a questo culto si che sei interessato ho visto io che cantavi appena andiamo in preghiera tu inizi subito a parlare in altre lingue non è interesse questo è vero o no se ti danno l'opportunità di dare gloria a Dio lo stai facendo c'è interesse e tu insieme a queste ossa sei legato sapete perché? perché lo spirito di Dio che ci lega la sorella che sta là basso è legata al fratello che sta seduto qua è incredibile sapete questo come si chiama? spirito santo e noi siamo interessati questa sera affinché tutta questa valle tutta questa assemblea perdonatemi tutto questo quartiere tutta questa città di San Cipriano le città circondicine noi siamo interessati perché prima di un risveglio prima di un risveglio tu ci devi tenere alle ossa il risveglio non arriverà se tu verso queste persone questi fratelli queste sorelle non hai un peso non ci metti l'interesse alle volte viviamo i culti come strane l'uno con l'altro ma non siamo forse un corpo? non siamo il candelabro di Dio? non siamo forse la colonna dell'Evangelo? e come mai ci sentiamo così disgregati alle volte gli uni con gli altri ma questa sera non è la nostra situazione non è vero fratelli e sorelle amici anche tu che per le prime volte incredibile tu ti senti appartenenti a noi e non siamo parenti magari ci siamo visti solo una volta eppure ti senti legato a me come io mi sento legato a te sapete questo chi lo fa è una persona lo spirito santo e quando lo spirito santo ci porta in una valle di ossa secche quella valle diventa la tua valle tu sei interessato alla buona riuscita di questo profumo di odor soave che si eleverà questa sera da questa umile tenda vuoi risveglio vuoi che le mura della potenza di Dio a difesa della tua casa e della tua famiglia vengano ricostruite questa sera e ci devi mettere l'interesse ti devi interessare a me hai visto devi interessarti dei miei problemi ma come io ho un sacco di problemi questa sera aspettavo una parola di ingolaggiamento viviamo in una società egoistica fratelli e sorelle lo voglio ripetere viviamo in una società egoista non mi interessa niente ve l'ho detto che viviamo in una società egoista ve lo dico un'altra volta l'importante è che sto bene io l'importante è che fa bene a me l'importante è che fa piacere a me l'importante è che io rido l'importante è che io gioisco non mi interessa nient'altro di nessuno l'importante alla fine è che io e te rimaniamo soli ma questa sera sta avvenendo qualcosa di miracoloso incredibile tu ti stai interessando a questo culto tu ci tieni che questo culto riesca tu ci tieni che queste ossa rivivano tu non sai nulla dell'altro dell'altra ma a te quello che importa è che questo culto riesca questo è un miracolo è un miracolo quando Nemia dovette ricostruire le mura di Gerusalemme non è che andò là e disse se leggete il libro di Nemia dice che lui gli dedicò del tempo a guardare quelle mura posso leggervi un verso? però ve lo dovete scolpire nei vostri cuori se non ve lo leggo non ve lo leggo ve lo leggo? sì uscì di notte do di giorno mi ha dormito e soggiorni che tu per sta tenda non riesci a pigliare sonno è incredibile non solo per quelli che fanno la notte ma per tutti coloro che vogliono vedere anime salvate guarite ossa secca e ritornare in vita è innaturale tutto questo è innaturale Nemia uscì di notte per la porta della valle e mi diressi verso la solgente del dragone la porta delle dame ascoltate questo osservando le mura di Gerusalemme quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco come Zecchiele Zecchiele fece il giro di quella valle Nemia fece il giro di quelle mura diroccate e noi in spirito questa sera stiamo iniziando a girare attorno questa tenda iniziando a vedere che c'è bisogno di Gesù Cristo fratelli e sorelle e noi siamo interessati a questa tenda perché vogliamo il risveglio la seconda cosa e Zecchiele fu interessato ma e Zecchiele ebbe riguardo ebbe riguardo per le ossa erano tanti innumerevoli ormai non avevano più una forma sapete molto bene che le ossa siamo noi sono io sei tu non ci vuole l'arco di scienza giusto senza offese ma noi siamo ossa non c'è vita senza Gesù non c'è vita è noto che si vogliono accomigliare non c'è vita non c'è vita senza Gesù non c'è vita il bel vestito non c'è vita bella macchina non c'è vita bella casa non c'è vita non c'è vita ossa secca non c'è vita non c'è vita e quando Ezechiele fu interessato dice la parola di Dio che il profeta passò vicino alle ossa vicino alle ossa attorno alle ossa notate il suo passo socauto immaginate tutte le ossa un piede fuori posto avrebbe potuto rompere qualche cosa vedete la sua delicatezza la notate o no fratelli e sorelle non è semplice avete mai passeggiato sul lido della spiaggia e ci sono tutte quelle telline è vero o no scusate le immagini ma io sono fresco di questa immagine e tu cerchi di camminare un po' alla volta piano piano contatto con delicatezza con riguardo perché è vero che noi siamo interessati ma non siamo degli impiccioni fratelli e sorelle amen il nostro interesse ha come obiettivo il risveglio non sapere le news i pettegolezzi ci sono coloro che girano attorno alle comunità attorno alle tende e signore ci liberi da questi sentimenti che vanno in giro torno torno non per essere interessati al risveglio ma interessati per sapere quell'ossa secca come mai è secca così come mai quello ha fatto questo come mai quello sta male come mai quello non viene da un sacco di tempo e ora si presenta questi non sono affari nostri amen il nostro interesse è il risveglio però proprio per questo se l'interesse è il risveglio allora quando ci interessiamo alle ossa abbiamo tatto verso di loro perché quando si parla dei drammi della vita bisogna avere tatto bisogna avere riguardo perché tu non sai che quell'osso secco che io e te magari giudichiamo magari calpestandolo pure può darsi che appartiene a tuo figlio o tua figlia eh? giusto o no? sto sbagliando stasera può darsi che quel problema può darsi che quella situazione che quell'osso testimonia di un dramma di un'uccisione invece di camminare contatto con circospezione con quella santa delicatezza che procede da una vita immersa nell'amore dello spirito santo devo sapere devo conoscere e allora vuol dire che l'obiettivo non è il risveglio l'obiettivo è sapere i fatti degli altri ma tu questa sera ti stai muomendo con quella delicatezza con quel tatto signore io non so io non so la persona che sta davanti a me vicino a me dall'altra parte il dramma il dramma che sta vivendo io non lo so e voglio avvicinarmi sotto il passo della preghiera ecco questo fu il passo di Ezechiele ebbe l'andatura della preghiera quando noi ci avviciniamo alle ossa secche quando noi camminiamo per i problemi delle nostre comunità e delle nostre famiglie fratelli e sorelle dobbiamo avere il passo di Ezechiele un passo scandito dalla dolcezza della preghiera da quella passione di vedere quelle ossa quei figli quei parenti quegli amici rivivere alleluia ti posso dedicare un verso da parte di Gesù chi lo vuole gloria a Dio guardate il tatto di Gesù guardate il riguardo che egli ha per te stasera egli non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante alleluia lo spirito che animò Ezechiele è lo spirito del nostro Signore Gesù Cristo ed è lo stesso spirito che ti sta animando stiamo pronti per pregare manca pochi minuti decolliamo decolliamo perché c'è la presenza dello spirito santo di Dio passatemi questo termine quanti mi conoscono ormai mi hanno capito ma per quanti sono in mezzo a noi per le prime volte sto dicendo che fra poco toccheremo il cielo amen Dio sia lodato che nel nostro cammino come credenti non abbiamo trovati degli attila sapete attila che faceva c'è un proverbio dice che dove metteva il piede non cresceva più l'erba ma si ha benedetto il nome del Signore che dove cammina la chiesa di Cristo Gesù i figli di Dio questa sera stanno passeggiando fratelli e sorelle in una valle di situazioni davvero spiacevoli problemi a destra problemi a sinistra crisi familiari depressioni malattie ma si ha benedetto il nome del Signore che noi stiamo impadronendoci di un passo che non è nostro è estraneo alla nostra natura e procede dal cielo è un passo celeste è un passo che ha riguardo che ha stima che ha interesse alleluia gloria a Gesù concludo si sente un rumore si sente un rumore l'abbiamo letto o no? sì o no? l'avete letto insieme a me? sento un rumore Ezechiele profetizza gloria a Dio a Ezechiele alleluia alleluia a Ezechiele siccome stava già preso sotto potenza poteva fare tutto il Signore giusto o no? giusto o no? giusto o no? è una visione faceva tutto in casa qual è il problema? ma ma a un certo punto il Signore dice a Ezechiele profetizza Ezechiele lo fa e si sente un rumore un rumore e a un certo punto avviene un miracolo le ossa si accostano alleluia eh? l'opera di Gesù non è quella di separare è quella di unire e siccome lo Spirito è lo Spirito di Cristo colui che dice di profetizzare al profeta Ezechiele il nostro fratello Ezechiele iniziano a unirsi stamattina un fratello lui mi ha raccontato una notizia bellissima ha detto che dopo il culto dopo il culto gloria a Dio per i culti e gloria a Dio quando ce li facciamo i culti dice che è andato a casa il Signore gli aveva toccato il cuore era da diverso tempo che aveva un problema familiare il Signore gli ha dato la forza di affrontare questo problema sapete che cosa è emerso? che il fratello è più unito con la sua famiglia ma lo vuoi capire o no che il Signore stasera ti sta facendo un grande favore queste ossa secche che si uniscono i muscoli che si erano prosciugati iniziano a salire sulle ossa i tessuti la pelle è tutto pronto tutto pronto dovete sapere che a Roma a proposito di mettere insieme le ossa c'è una chiesa che una volta quando andai la prima volta tenevo 18 anni che ha le le cripte vicino e io così giusto perché mi piaceva andare a vedere un po' con altri fratelli della chiesa giovani passiamo una giornata a Roma e un giovane un mio amico mi disse andiamo a vedere questa cripta io ieri subito un'impressione subito un'impressione dice no Gio vieni vieni andiamo andiamo vai io nella mia ingenità vai entrammo in questa cripta e c'erano delle scene raffigurate della parola di Dio belle e io subito appena vedi una scena il giardino dell'Eden l'ultima cena insomma una serie di scene il problema è che poi mi iniziai a guardare un po' più da vicino e queste scene erano formate da ossa fratelli e sorelle da ossa bruttissimo sono rimasti impressionati per due tre giorni non riuscivo a dormire più questo per dirvi che probabilmente le ossa questo mondo le può mettere pure insieme ci può pure riuscire eh un po' di medicina io non sono contro i medici non siamo contro i medici è vero fratelli pastori gloria a Dio per l'intelligenza che Dio ha dato all'uomo però quando qualcosa lo può fare solo lo spirito di Dio perché unire le famiglie non lo può fare la terapia la terapia di coppia non ci riesce ci vuole qualcuno superiore allora magari la terapia di coppia può mettere pure le ossa insieme ma quella coppia per rivivere bisogno dello spirito di Dio e allora Zecchiele inizia ad intercedere eh siamo interessati a questa valle di ossa secche fratelli e sorelle questo culto io penso che ci tieni a saia a questo culto stasera in maniera particolare e stai usando tatto garbo delicatezza stai pregando nel tuo cuore senza spingere senza forzare stai dicendo Gesù tu puoi Gesù tu puoi Signore tu puoi l'ultimo step inizia a pregare adesso noi pregheremo però nella preghiera di Ezechiele si evincono almeno due cose la prima cosa i limiti di Ezechiele qua c'è bisogno dello spirito santo di Dio Ezechiele non si mette con la sua capacità di sacerdote per dire vediamo un po' come riusciamo a far rivivere questo esercito che senza vita pronto per uscire in battaglia ma ha bisogno dello spirito inizia a profetizzare allo spirito e dice vieni dai 420 vieni dai 420 oh spirito soffia su questi uccisi la seconda cosa che in preghiera bisogna essere onesti franchi non dice soffia su questi che si sono fatti male per sbaglio è vero è importante lui sta pregando e dice le cose in maniera molto franca perché il peccato a noi ci ha uccisi a noi ci ha lasciati mezzi morti fratelli e sorelle amici e allora in preghiera questa sera si deve elevare una preghiera di intercessione che riconosce i nostri limiti come genitori ce l'abbiamo messa tutta ma ora ci vuole lo spirito santo abbiamo fatto di tutto come mogli come mariti come figli ma ora ci vuole lo spirito di Dio e mentre preghiamo dobbiamo dire le cose come stanno il problema che cosa è depressione e allora non dire non sta bene depressione che cos'è alcolismo e allora non fare col segno così di alcolismo no e questa sera possiamo dire con molta franchezza che quella preghiera venne esaudita dal cielo dice la parola di Dio nel versetto 10 e io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e tornarono alla vita e si rizzarono in piedi cioè non è che si alzarono aspetto stasera stasera non te ne tornerai a casa speriamo che già faccia signore ti prenderà sotto potenza le tue ginocchia vacillanti verranno rinforzate dallo spirito che soffiò in Adamo e tu ti rizzerai in piedi e questa tenda che doveva terminare come un funerale eh raccogliendo le ossa della nostra vita fatta di drammi di problemi enormi si è trasformata in una parata di santità un esercito glorioso concludo con questa ultima riflessione il signore dice a Ezechiele voglia di che tutta sta visione non è una bomboniera è per loro il signore quanti combattimenti devi fare con noi per convincerci quando si tratti maledizioni ce l'avevo con me quando stanno i guai tragedie catastrofe eclissi bomba atomica è tutto per noi è vero o no? tutto per noi quando poi il signore ci dà una parola di incoraggiamento ci devo convincere infatti disse a Ezechiele ecco essi dicono le nostre ossa sono secche la nostra speranza è morta noi siamo perduti e Ezechiele perciò profetizza di loro così parla il signore l'eterno ecco io aprirò i vostri sepolcri vi trarrò fuori dalle vostre tombe con chi ce l'ha il signore stasera alziamo un po' con le mani vediamo chi ci crede che c'è la gloria a Dio per quelle mani che sventolano come bandiere dinanzi alla presenza del signore con chi ce l'ha il signore stasera alza la mano non fa così alza la mano alza la mano gloria a Dio gloria a Dio ossa secche hai visto o no? grazie a tutti